Il Catania si è svegliato, ultimo in classifica. Non cambia molto rispetto a ieri, ma la vittoria dell'Entella sul campo del Cittadella serve semmai a dare ancora di più il senso del momento. Catania all'ultimo posto con il Crotone, una sola vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. Lo specchio di una stagione nata male, come quella scorsa, che il presidente Pulvirenti confida questa volta di raddrizzare. A partire dal feeling con l'ambiente, un tentativo sarà fatto domani, aprendo le porte di Torre del Grifo. L'obiettivo? Fare vedere anche ai tifosi ormai arrabbiati, scettici oppure indifferenti l'impegno messo dal gruppo. Per Pulvirenti deve essere la svolta. Potranno arrivare anche fischi o contestazioni, soprattutto nei confronti dell'amministratore delegato Pablo Cosentino, ormai diventato obiettivo principale dei tifosi. Questo Pulvirenti lo sa, anche se chiede ai supporter di stare a fianco della squadra. Ma sa anche che, in attesa di gennaio del mercato, questa società, questo gruppo deve giocarsi tutto. Sannino avrà, come al solito, problemi di formazione, spera nei rienti di Rinaudo e Capuano, non ci sarà Ghiombe squalificato mentre tornerà a Peruzzi. Il tecnico, Coccola, Rosina e Calaiò, gli unici, infortunati e giovani esclusi, che ci credono. Gli unici, insieme a Martigno, andati a segno in questa stagione. Solo tre giocatori, dunque, nel Varese, sono andati in gol in nove, nel Trapani in otto. Anche in questa speciale classifica il Catani è ultimo, seppur in compagnia. La dimostrazione ulteriore di quanto poco sia arrivato dal resto del gruppo, anche se il gol non è il mestiere di tutti. Persino Lentella e il Crotone, sette e sei reti in totale, hanno più giocatori nella classifica marcatori. Calaiò e Rosina, dunque, determinanti ed è risaputo, ma da soli non possono risollevare il Catania.